Ciao! Come potete vedere dalla scatola già aperta, perché logicamente l'ho già fatto, oggi recensirò il Mega Construx di Bulbasaur che ho trovato al Toys sul sito quando c'era il 22%, 21,06 euro, ho pagato 21,06 euro, che è un po' tanto, però vabbè, comunque questo qua, la scatola vabbè, è uguale più o meno a come era quella di Squirtle, dietro ci sono anche Charizard e Charmander, carini, piacerebbe trovare Charizard, vabbè. E ora, abbasso un attimo. Uh, quasi. Ecco, per farvi vedere... Vi faccio vedere anche la, diciamo, spilla, a forma di Premier Ball, mi sembra, sia questa. No, vabbè, è bellissimo. E... Qui si può aprire... Che è così. Vabbè, però, teniamolo chiuso, perché, sì... Le liane sono fatte con questi pezzi qua, molto carino, gli occhi rossi, e... Anche qua, vabbè, è un po' poco preciso su, diciamo, le cose che combaciano, però va bene. Ah, sì, poi può aprire la bocca. Carino. Siccome questo è cortissimo, adesso, visto che si parla sempre di Pokémon, vi faccio vedere questo. Che ho trovato sempre al Toys. Aspettate che... Porca miseria. Mm, ok. Ehm... L'ultima volta che sono andata, e non mi ricordo... E... 18,99, vabbè, è più o meno come... Ehm... Ehm... Come al... GameStop. Ok. Di Pokémon Go. Gli sono arrivate da poco. Cioè, da poco, insomma. Ah, te parevi. Va bene. Ho preso, vabbè, la classica Poké Ball. E... Ok, allora, qua c'è il poster con i codici. E poi ci sono le tre, i tre pacchetti. E... 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 E gli sticker di Larvitar e di Zapdos. Carino. Ok. Vediamo un po'. Se sono stata fortunata. Ok. C'è il codice. Allora, eh... Energia Acciaio. Steelix. War Turtle. Slowbro. Rattata di Allola. Wimpod. Pikachu. Squirtle. Carino il disegno. Molto carino. Bidouf. La... Oh, la reverse. È Zapdos. Che bello. E... Vabbè. Lapras. Vabbè. 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 Codice. Energia Lotta. Non mi ricordavo. Lunatone. Ivisore. Pokestop. Ipo. Charmander. Ivi. Numel. Oh, 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 oh. Ratticaid. Ah, no, forse avevo visto la reverse. Numel. E Snorlax. Vediamo. Vediamo un po'. Oddio. Perché? Perché sta cosa? Ah, speriamo. Speriamo. Allora. E... Il codice. Codice. Allora. Energia elettro. Lunatone. Caramella rara. Unfeasant. Charmander. Ivi. Numel. Ratticaidia. Nola. Tranquil. La reverse. Soulrock. Ok. Oh. Ah. Ah. Ma mi sembra di averla già trovata questa. Però comunque. Va bene. Ex editoria Lola. Vi. Vi. Vabbè. Dai. Dai. Ah. Vabbè. Così. Così. Mmm. Non lo so. Ma. 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 Vabbè. E così. Pazienza. Qua. Chiudiamo. Dai però. Ok. Ma sì dai. Carino. Ok. Alla prossima. Ciao ciao.